ciao a tutti i ragazzi oggi siamo in un nuovo video sono se le vende ecco 29 faremo il quarto episodio delle gare stronzi in cui farà una gara il signor se le vende signor se le vende sfigato quello che però va bene eccoci qua siamo oddio cosa facendo pedala pedala ok va bene ma cazzo va a salire una bm sii potenza dai 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 cazzo salta ma sei capace a saltare porca puttana c'è dai si è vabbè è decapitato con un carciapiede facciamo fitta in niente dai non fateci caso dai oh guarda che salto backflick dai che cazzo ah io è grandioso che cazzo è da notare il logo di cuna 29 swag dietro facciamo fitta in niente dai 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 si è baggato tutto attento a non cadere ok ok no eccomi eccomi sulla spazzatura vabbè facciamo fitta in niente no merda 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 backflip backflip vaffanculo backflip del cazzo proprio backflip però sono che siamo tutti da 5 tipo 10 piani ma avevo preso solo un attacchettino di vita cioè semplice ragazzi tutti tutti cadono da 10 piani e si fanno rompono un braccio non è che muoiono ragazzi c'è cose da ogni giorno dai praticamente si capita sempre ma che no come ho fatto schifo mancava fa culo subito container del cazzo nel culo grandioso e invece in questo caso siamo arrivati a vita rossa perchè c'era un piano in più c'era container si infatti si sentia di fare il coglione dai ok vediamo se ci faccio senza cadere ok no eh che cazzo si vabbè becca al palo nel culo oh merda come sono sopravvissuto itteruh 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 it's magical by nananana cuna 29 ha nella cassa eseleven productions e un king ok basta tetteruh itteruh dai io se la faccio senza salta 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 e che cazzo sto faccio il mongolo non sa saltare eh non faccia di girare il mio personaggio sono sopravvissuto grandioso ok eccoci qua riproviamo eh musica da salotto facciamo finta e niente dai oh guarda guarda adesso ce la fa ce la fa ce la faccio adesso ce la faccio vai direzione mamma fa culo e guarda che pro no una se va bene vai oh esperto mi dicono anni di esperienza ragazzi solo buco del culo grande grosso culo buongiorno vai quello cos'è spazzatura che tristezza ma che c'è qua vai ok no 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 non cadere pullman che 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 stanno si ma come fate a morire così è sempre è la fai data del marciapiede volante mettiamo finta di niente dai passiamo avanti salta 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 ok ce l'ho fatta eccoli checkpoint 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 che pro sto diventando esperto ragazzi ok ok vediamo ok visto che per ora infatti il mio amico se laven appena arrivato al traguardo no 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 cazzo 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 ok vi saluto e ci vediamo al prossimo video bell'ide zio ciao